Ciao, ciao bambini, ciao, buonasera genitori, buonasera i nonni, ciao a tutti, ciao, allora oggi facciamo l'appello, va bene? Vediamo, vediamo chi c'è e chi non c'è. Cominciamo da Amelia, da là Amelia, Ame, ci sei, benissimo, e Bianca, Milena, Barbara, Fiorenzo, Fiorenzo, dai dunque Fiorenzo, muoviti, Linda, Enrico, Rachele Olimpia, Laura, Luce Sole, Nicola, Emily, Sofia, Natascia, Moira, Francesca, Lorenza, Danila, Laura, Alba, Marta, Cristina, Enrica, ci siete? Gianni, ci sei? Ma certo, eccomi, ciao a tutti, ciao, ma tu chi sei? E io chi sono? Ma tu chi sei? E io chi sono? E tu chi sei? Siamo a noi? Ma siamo uguali? Allora iniziamo le nostre letture, parola d'ordine qual è? Leggiamo, leggiamo, e andiamo a salutare il nostro Deus Fantasticus, Deus, lo sai che stanno parlando di te, ma di Zeus, ma sai che stai diventando conosciuto? Sei contento? Sei contento, Zeus? Wow, guarda come svolazzi, allora sei contento? Ma sì, scrivono di te, parlano di te, tutti ti conoscono, eh, ma ti conoscevano anche prima, perché tu sei, chi sei tu? Il dio della fantasia! E allora andiamo a leggere, subito, tutti insieme, andiamo? Leggiamo? Eccoci qua, pronti? Ci mettiamo in posizione? E oggi leggiamo, iniziamo con un personaggio che non abbiamo ancora iniziato le nostre letture con, siccome è il personaggio principe, ne parliamo sempre, tutti, e tutti vogliono sempre ascoltare storie dedicate al lupo, e oggi iniziamo proprio con un lupo! Ve lo ricordate? Quel lupo che era uscito, passeggiava nel bosco, credeva di essere il più forte, lui il più forte, e incontra tanti personaggi, poi alla fine incontra un, eh, eh, e lui dice ciao, specie di piccolo rospo, ma invece chi è? Era un draghetto, che non era solo, era accompagnato dalla sua mamma draga, il lupo! E allora oggi il nostro lupo ancora ha la memoria corta, il lupo ha sempre la memoria corta, e decide ancora di andare a fare una passeggiata nel bosco, ma oggi non è il più forte, oggi crede di essere il, il più bello! Ho, 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 ho! Un bel mattino l'incorregibile lupo si sveglia di ottimo umore! E dopo una ricca colazione indossa il suo più bel vestito! Sono incantevole, vado fare un giretto, così tutti potranno ammirarmi! E il lupo così si pavoneggia un po', pavoneggia? Un lupo? Eh, vabbè! Il lupo incontra cappuccetto rosso, ma che delizioso, bocconcino! bambino! Va, dimmi un po', fragolina di bosco, tu lo sai chi è il più bello? Il più bello? Oh, oh, ma sei tu, padron lupo, questo è certo, sei proprio tu! Risponde cappuccetto rosso! Ma è proprio vero, i bambini sono la bocca della verità! Io sono il più elegante, il più affascinante! Si pavoneggia il lupo ancora coi pavoni, poi incontra... Ma dite un po', cicciottelli, sempre pronti a saltellare nel bosco per perdere peso, eh? Ma ditemi un po', teneri porcellini, chi è il più bello? Oh, oh, oh! Ma si tu, ma si tu, tu, tu meraviglioso, tu brilli come belle stelle, lupo! Dicono i porcellini tremanti, ah 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 ah! Io brillo e risplendo, luccico, illumino tutto il bosco, con la mia bellezza! Sono proprio una meraviglia! e più tardi incontra invece i sette nani! Allora, mezze, mezze porzioni, si rientra dal lavoro? Ragazzi, il vostro aspetto è proprio disgustoso! Dovreste riposare un po', ma vabbè, 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 ma voi sapete chi è il più bello? Oh, il più bello, il più bello sei tu! Oh, un grande lupo cattivo! Dicono in coro i sette nani! Ah ah ah! La 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 io sono la stella di questo bosco oggi sono in forma sbagliante poi incontra biancaneve ma ma guarda chi c'è povera figliola come sei pallida o sembri malata ma comunque osserva bene e dimmi chi è il più bello ma io non so beh tu tu forse tu sei tu il più bello ma sì è certo bravo bambina ottima risposta io sono il re di questo bosco io sono il re tutti gli sguardi sono puntati su di me grazie 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 caro pubblico urla il lupo infine si abbatte in chi nel draghetto buongiorno che sorpresa ma la tua mamma la tua mamma è qui chiede inquieto il lupo guardandosi intorno no 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 i miei genitori sono a casa risponde il piccolo drago perfetto dice il lupo rassicurato dunque dunque specie di cetriolo chi è il più bello il più bello è il mio mio papà che mi ha insegnato a fare il fuoco e adesso smettila con queste stupide domande che sto giocando nascondino con il pettirosso chi è il più bello ma povero lupo eh ma nelle storie i lupi sono sempre sfortunati ma troveremo prima o poi una storia dove il lupo invece all'incontrario vince vince lui allora nostro sacco del magico delle storie e andiamo a cercare che cosa c'è a proposito di animali noi guardiamo guardiamo un libro magico tutti insieme facciamo un esperimento vediamo se si vede guardate è un libro quando dico magico è perché è veramente magico si intitola animos e guardiamo un po subito si capisce se funziona proviamo un po guardate guardate questo è un e lo metto più vicino pronti a sì che si vede allora pronti è un libro magico iniziamo con la storia sai camminare come un del come un pinguino sapete camminare come un pinguino aspettate come lo devo mettere così tutti allora tutti in piedi e provate a camminare come un pinguino tutti avete fatto lo state facendo bravissimi fatemi vedere imitate alla perfezione il pinguino è tanto cerco la posizione migliore ok bravi bravi la siete cavata abbastanza bene ma se 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 sapete imitare un pinguino sapete anche saltare come una ranocchia vediamo se si vede intanto che saltate fate anche verso della rana io lo vedo non so spero che voi lo vediate e se sapete saltare come una ranocchia sapete grufolare come un maiale bravi ma non grufolare poi troppo sennò i vostri genitori si preoccupano e se sapete grufolare come un maiale sapete camminare come un elefante col passo pesante state facendo è piano 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 però sbattere i piedi altrimenti nel piano di sotto poi si lamentano non sanno che cosa sta succedendo e se sapete camminare come un elefante sapete strisciare come una biscia e se sapete strisciare come le bisce sapete volare veloci 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 come i picchi forse non si vede benissimo ma se sapete volare come i picchi sapete muovervi veloci come un orso correre come gli orsi più no sul divano però che cadete cadete su dal divano e se sapete correre come un orso sapete fare i tuffi come i delfini wow ma siete bravissimi dei nuotatori anche quindi se sapete camminare come i pinguini correre come gli orsi marciare come gli elefanti fare i tuffi come i delfini voi adesso potete fare brillare la stella che avete dentro a no aspettate no non è vero dovete scappare via di corsa di corsa perché perché c'è un coccodrillo scappate scappate ma non so se è riuscito l'esperimento poi domani guardiamo va bene più tardi guardiamo allora storia 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 dedicata a c'è un personaggio ecco il personaggio della nostra storia è un piccolo chi è chi è chi è sì un piccolo riccio un porcospino ecco lui il personaggio della nostra storia lo mettiamo lo mettiamo qui è qui va bene siamo qui con noi ecco qua si intitola il riccio nella nebbia questa storia la nebbia la dedichiamo ad amalia amalia questo libro l'ha regalato lei quindi dobbiamo dedicarlo ciao amalia ogni sera riccio andava a casa di orso a raccontare a contare le stelle accovacciati su un tronco i due sorseggiavano il tè e guardavano il cielo stellato sospeso sopra il tetto proprio dietro al comignolo della casa le stelle a sinistra appartenevano a orso e quelle di destra appartenevano a riccio per arrivare da orso riccio doveva prima attraversare un campo circondato dalle falene e poi entrare in una pineta quando uscì dalla pineta non si accorse però che dietro di lui un gufolo seguiva di soppiatto con le ali spiegate riccio portava orso una marmellata di lamponi e intanto guardava il cielo ecco qui gufo e in quel fagottino c'è la marmellata di lamponi all'improvviso si fermò oh una stella il gufo quasi lo travolse per guardare anche lui nel cielo c'è c'è una stella nella pozzanghera mormorò riccio guardando il riflesso e aveva ragione e gufo fu molto sorpreso anche il gufo quindi si chinò nella pozzanghera però 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 non vide niente eccetto se stesso allora si stizzì fece increspare l'acqua con la zampa piumata nel frattempo riccio si era messo a guardare dentro un vecchio pozzo buio riccio salto giù e urlò ancora come se avesse lanciato giù un sassolino ecco il pozzo ed ecco gufo arrivato al pozzo allora il gufo gridò a sua volta e si fermò sorpreso anche a lui il pozzo rispondeva arrabbiandosi sul loro del pozzo il gufo allora gridò di nuovo e il pozzo di rimando il gufo ridacchiò e andarono avanti così tra richiami ed ecchi nel frattempo riccio procedeva lento col suo fagotto immaginando cosa avrebbe detto a orso io gli dirò ti ho portato la marmellata di lamponi e lui mi dirà la togliera si è raffreddata dovremmo aggiungere questi ramoscelli sai come cavolo si chiamano ramoscelli di 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 ginepro e io gli dirò e io gli dirò e io gli dirò ma a quel punto si interrompe di botto a pochi passi da lui dalla nebbia era emerso un cavallo bianco strano pensò riccio e se il cavallo si addormentasse affonderebbe nella nebbia e discese lentamente il pendio tanto perché mi ero un po nella nebbia vedere che effetto faceva starci dentro ma non vedo nulla neanche le mie zampe cavallo cavallo esclamò riccio cavallo dove sei? ma il cavallo non rispose a quel punto una foglia secca gli cade addosso allora spaventato riccio si coprì gli occhi con le zampette e quando sbirciò una lumaca scivolava nella nebbia facendo oscillare il misterioso guscio riccio sollevò cauto la foglia secca e sentì un respiro vicino un elefante si stava sollevando e gonfiando fino al cielo o non era un elefante riccio posò pian piano la foglia e in punta di piedi si rimmerse nella nebbia in quel momento risbucò fuori la testona gentile del cavallo che sbuffava e brucava felice sbuffò la testa del cavallo la foglia secca si sollevò per aria come se fosse viva e sparì riccio udì un brusì in lontananza e improvvisamente un pipistrello gli sfecciò sopra la testa e scomparve riccio non fece neanche in tempo a spaventarsi che fu attorniato da uno sciame argenteo di falene riccio scherzò con loro e si mise perfino a rincorrere saltò in aria agitando le zampe per fingersi anche lui una falena ma di colpo si interruppe stringendo al petto il suo fagotto affacciato nella nebbia come una finestra il gufo lo fissava e bubolava e poi di nuovo svanì che follia pensò riccio raccolse un ramoscello secco e procedette a tentoni nella nebbia il rametto rovistò nella nebbia come un cieco fino a urtare qualcosa di duro toc toc bussò riccio deposì il fagotto e impugnando il rametto si ritrovò davanti a un albero con un'enorme cavità ah gli sussurrò dentro riccio oh rimbombò la cavità mentre riccio si cingeva a tornare sui suoi passi si ricordò del fagotto allora corsi indietro e poi girò intorno all'albero si guardò in giro da tutte le parti ma niente fagotto la nebbia discese lentamente fino a coprire tutto riccio riccio sentiva arrivare da lontano un richiamo nel frattempo la nebbia che lo avvolgeva era sempre più fitta raccolse uno stelo d'erba in cima c'era una lucciola con lo stelo sollevato sopra la testa lo usò come una candela sporgendosi tutti in avanti riccio cercò una via d'uscita e si fece strada arrancando nella nebbia gli alberi come quelli di una nave erano immersi nell'oscurità la lucciola il suo minuscolo faro oscillando nella nebbia illuminava il cammino con un esile bagliore verde ma poi anche lei cadde e sparì e scese il buio la nebbia gli turbinava intorno e riccio allora si mise a correre gli sembrò di essere inseguito da un'enorme lumaca o da un pipistrello o dal gufo che l'elefante non si masse e la foglia si sbriciolasse riccio cade nell'erba e si coprì la testa con le zampette in quel momento sbucò dalla nebbia un cane che depose il fagotto davanti a riccio e fece un enorme sbadiglio e scomparve a quel punto si sentì la voce di orso che arrivava da lontano riccio riccio corse verso la voce ma splash cadde nell'acqua sono nel fiume mormorò riccio rapprivedendo dallo spavento e poi decise beh mi farò trasportare dall'acqua fece un gran respiro e si fece portare a valle dalla corrente su in alto nel cielo brillavano le stelle dalla riva spuntò la testa del cavallo da lontano giunse il suono delicato di un mandolino sono sempre più zuppo affogherò pensò riccio e in quel momento si sentì toccare una zampa scusami disse qualcuno sottovoce chi sei e come sei finito qui sono riccio rispose anche lui sono caduto nel fiume allora dai sali sulla mia schiena disse qualcuno piano piano ti porto a riva riccio salì sulla schiena ampia e scivolosa di qualcuno e presto si ritrovò a riva grazie disse riccio d'alta voce di niente rispose sottovoce qualcuno che riccio non aveva neanche potuto vedere e poi qualcuno sparì tra le onde aggrappato al suo fagotto riccio si sedette su un tronco guardando fisso davanti a sé poi sentì un rumore di passi affrettati riccio riccio dov'eri sbuffò il piccolo orso lasciandosi cadere accanto a lui ti ho chiamato e richiamato ma non mi rispondevi riccio non disse nulla lanciò soltanto un'impercettibile occhiata di traverso ho già messo la tagliere sul fuoco e le sedie di vimini sono vicine così contiamo le stelle in santa pace ecco pensavo arriverà da un momento all'altro e prenderemo il tè con la marmellata di lamponi hai portato la marmellata di lamponi vero e ho bollito l'acqua e questi rametti come cavolo si chiamano gineipro sibilò lentamente riccio sì gineipro gongolò orso per profumare il fuoco e e poi e poi chi altro a parte te saprebbe contare le stelle insieme a me orso continuò a parlare a parlare e a parlare e a parlare e riccio pensava però che bello essere di nuovo insieme ma in quel momento gli tornò in mente il cavallo come se la caverà laggiù nella nebbia c'era silenzio nel cielo notturno brillavano le stelle il gufo conversava con il posto diceva il gufo rispondeva il posto urlava il gufo uuuu uuuu tonava il posto uuuu 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 l'amico uuu 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 guisto ciao bimbi allora pronti eh leggiamo beh allora leggiamo una cosa da grandi ancora quando voi sarete grandi hm questa eh sono degli aforismi veloci 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 quelli dell'altro giorno eh questa la scrive madre Teresa di Calcutta una grandissima donna che ha aiutato migliaia, ma forse milioni di persone ammalate, in difficoltà. Tutta la vita ha fatto questo. In giro dovrebbero esserci dei cartelli con su scritto non calpestare i bambini come vicino a lei vuole per i fiori, perché un bambino calpestato sarà un grande appassito. Ditele ai vostri genitori, fateglielo ascoltare queste qui. Poi ancora Gabriella Mistral. Non so chi è, però il futuro dei bambini è sempre oggi. Domani, ormai grandi, sarà tardi. Avete chiamato la mamma e il papà? Dai, chiamatele che gli leggiamo di nuovo. Siete pronti? Babbi, mamme, ascoltate. Il futuro dei bambini è sempre oggi. Domani, ormai grandi, sarà tardi. Speriamo che abbiano capito. Scrive! Oh, Antoine de Saint-Exupéry, lo sapete chi è? È lo scrittore, quello del piccolo principe. Ve lo ricordate, il nostro piccolo principe? È lì, quello del rito, quello per cui noi oggi siamo qui tutti i giorni, alle 18, e facciamo il nostro rito quotidiano. Quello che doveva domesticare la volpe e la sua rosa, perché così sarebbero state sempre diverse da tutti gli altri. E dice il marchese, perché era un marchese, nobile, i grandi non sanno cosa interessi davvero i bambini, perciò li tormentano con domande noiose. Sono fatti così, i bambini non devono prendersela ed essere invece molto comprensivi con i grandi. Quindi, non arrabbiatevi con noi. Abbiate pazienza, noi siamo fatti così, purtroppo. Ancora, Gianni Rodari, quando un bambino racconta le sue fantasie a briglia sciolta, fa un gran bene ai grandi che stanno ad ascoltarlo. È proprio così, è proprio così. Le nostre letture, la nostra fantasia, il nostro gioco con i libri è davvero, davvero un gran bene per tutti. Ancora, scrive Scipio Zalater, però, anche lui non lo conosco. I bambini fanno le bizze quando non vogliono dare retta ai genitori, finché non imparano quanto sia facile, obbedendo, costringerli a fare proprio quello che vogliono loro. E i bambini sono furbi. Fine dei grandi. ho trovato anche alcuni segnalibri con delle belle frasi. Sentite questa, chiamate ancora i genitori, babbi, mamme, tutti, ascoltate. Scrive Frederick Nietzsche, un grande filosofo, chi volesse imparare a volare deve prima imparare a camminare e poi ad andare e a saltellare. Il volo non si impara a volo. Quindi, ogni cosa ha il suo tempo e il suo percorso. bambini, vale anche per noi, per voi. Io ogni tanto mi sento ancora un po' bambino. Va bene. Storia ancora? Pronti? Una storia? Beh, allora, ancora, parliamo di bambini e parliamo di qualcosa da fare. E qualcuno magari si annoia, qualcuno magari in questi giorni sempre in casa dice babbo, mamma, sono stanco, cosa facciamo? È semplice, ecco una soluzione. Si trova sempre qualcosa da fare. Il nostro protagonista è un piccolo orsacchiotto. non c'è nulla da fare, non c'è proprio nulla da fare, uffa, non c'è nulla da fare. Svegliati, papà, papà orso, papà, papà orso, non c'è nulla da fare, proprio nulla, uffa. Beh, andiamo a fare una passeggiata, una lunga passeggiata. Non c'è ancora nulla, neanche qui, upo, papà, papà orso. Un legnetto. ora abbiamo qualcosa da fare. Un pezzo tè e un pezzo me. guarda, una linea. Oh, ne faccio una anch'io. Ecco qua, un'altra linea. E ora, una scala. l'appoggiamo e saliamo. Oh, ed ora, una luna. Ciao, scala. Ciao. Guarda, guarda le stelle. una stella cometa. Papà, papà orso, adesso sono stanco, ho fame. Oh, guarda laggiù, c'è una casa. toc toc. Ehi, avete trovato qualcosa da fare? Venite che è pronta la cena. Ecco qua. Con un papà e con un bambino si fanno tante, tante cose. Anche con una mamma, ovviamente. Molto di più con una mamma, probabilmente. Però, insieme, forse, è molto meglio. Ma adesso facciamo una storia di magia. Vi ricordate l'altro giorno il prestigiatore giallo? Ma il prestigiatore, ovviamente, fa magie anche su di sé e si cambia di colore. Il prestigiatore verde. Signori, 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 io sono Alfonso, il prestigiatore verde. Attenzione a questo gioco, eh? Cosa c'è in questo mobile tende? Che cosa c'è? Pronti? Uno, due, e e tre! Ma ci sono io, signori, ci sono io! come ho fatto a cambiarmi d'abito in un minuto? Non ve lo posso dire. Ma questo è niente, eh? Ancora, eh? Attenzione! Uno, due, e e tre! Oppa qua! Ma qui c'è soltanto l'abito di Alfonso. Ma Alfonso è sparito. Ma dove sarà finito Alfonso? Attenzione, eh? Uno, due, e e tre! E opla! Ecco una grande cesta! Eh, ma che sia qua dentro il nostro prestigiatore? Alfonso! Alfonso, ci sei? Vediamo? Uno, due, e perbacco! Ma, ma, ma pare che non ci sia, ma Alfonso? Dove sei? Alfonso, sei sparito? Proviamo a fare, come sempre negli spettacoli di magia, qualche minuto di buio? Proviamo? Un po' di buio, un po' di silenzio, eh? Vediamo cosa succede. E intanto che c'è questo buio, i servitori di scena portano via tutti gli oggetti. oh oh! Carte magiche! Oh oh! Alfonso! Allora sei qui? Forse qua. Alfonso, ci sei? Alfonso! Ma, ma Alfonso, Alfonso, perbacco, ma, ma dove sei? Quando torna la luce si vede un misterioso, misterioso baule messicano, chiuso, legato e suggellato. Il baule è appena arrivato con la ferrovia del nord. Ah, certamente porta con sé il nostro Alfonso. Sarà qui? sarà qui dentro? Diti di sì? Diti di no? Contiamo? Uno, due, e e tre! E' Alfonso! ma possibile che non si possa stare un minuto in pace a suonare il violino? Eh, eh, Alfonso, un po' i precisatori e i maghi sono un po' così, sono un po' lu, lu, lunatici. voglio leggere una poesia e poi leggiamo una storia delicatissima, bellissima, quindi una poesia è proprio giusto, giusto che sia lei di introdurla. Giovanni Pascoli, sapete tutti chi è Giovanni Pascoli, veramente uno dei più nostri, uno dei più grandi poeti italiani. Il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non un filosofo, non uno storico, non un maestro, un tribuno o un demagogo, o un uomo di stato o un uomo di corte. E nemmeno è sia pace del maestro un artefice che foggi spade, scudi e vomeri e nemmeno, con pace di tanti altri, un artista che che scusate, che ceselli l'oro che gli altri gli porga. A costituire il poeta sale infinitamente più il suo sentimento e la sua visione che il mondo col quale gli altri trasmette l'uno e l'altra. Beh, bisogna leggersela da soli, perché viene molto, molto meglio ed entra molto più dentro, molto più profonda. Io l'ho letta così così, però adesso leggiamo una storia bellissima, una storia veramente bellissima, che è la grande fabbrica delle parole. E questa storia, a questa storia facciamo una dedica. La dedichiamo a Laura, perché oggi ha avuto una bellissima notizia, Laura scrive, scrive tante storie e sa, le hanno detto che le pubblicheranno alcune sue storie, per cui, per cui, per la bellezza dello scrivere e per le belle parole, ecco la fabbrica delle parole. C'è un paese dove le persone non parlano quasi mai. È il paese della grande fabbrica delle parole. In questo strano paese, per poter pronunciare le parole, bisogna comprarle e inghiottirle. La grande fabbrica delle parole lavora giorni e notte. Dai suoi macchinari escono tutte le parole di tutte le lingue del mondo. Ci sono parole che sono più care delle altre. Non si pronunciano spesso, a meno di non essere ricchissimi. Nel paese della grande fabbrica, parlare costa molto. Chi non ha soldi fruga a volte nei cassonetti della spazzatura. Ma le parole che vengono buttate via non sono molto interessanti. Ci sono un mucchio di carabattole e fichi secchi. In primavera, però, si possono comprare parole in offerta speciale. Si portano via un sacco di parole a un prezzo conveniente. Ma spesso sono parole che non servono un granchè. Che cosa ci puoi fare con ventriloquo o filodendro? A volte ci sono parole che volteggiano nell'aria. Allora i bambini si precipitano fuori con i loro rettini a chiappa parole e la sera cena sono fieri di poter dire qualcosa ai propri genitori. Oggi Phileas ha catturato tre parole con il suo rettino. Non le pruncerà questa sera a cena con i genitori perché vuole conservarle per una persona preziosa. Domani è il compleanno di Sibel. Phileas è innamorato di lei. Gli piacerebbe molto dirle ti amo ma non ha abbastanza soldi nel suo salvadenaio. Allora le offrirà le parole che ha trovato. ciliegia polvere seggiola. Sibel abita nella strada accanto. Phileas suona alla sua porta. Sibel sorride e non dice buongiorno come va perché non ha con sé queste parole e anche lui allora sorride. Sibel ha un vestito rosso ciliegia e anche lei ancora sorride. Dietro di lei Phileas scorge Oscar. Oscar è il suo più grande nemico. I suoi genitori sono molto ricchi ma non è per questo che Phileas lo detesta. Oscar non sorride. Oscar parla e parla Sibel. Sibel ti amo con tutto il cuore mio Sibel un giorno lo so noi ci sposeremo. Devo aver speso un patrimonio pensa Phileas. Sibel continua a sorridere e Phileas non sa a chi è rivolto quel sorriso. Negli occhi di Oscar c'è una tale sicurezza. le mie parole sono ben poca cosa pensa Phileas poi fa un gran bel respiro e pensa a tutto l'amore che ha nel cuore poi pronuncia le parole che ha catturato col suo retino le parole volano verso Sibel sono come gemme preziose ciliegia polvere seggiola Sibel non sorride più lo guarda si direbbe che non abbia in serbo nessuna parola invece si avvicina dolcemente e posa un bacio delicato sul nasino di Phileas a Phileas non rimane che una parola sola l'ha trovata molto tempo fa in un cassonetto in mezzo centinaia di carabattole e fichi secchi è una parola che lui ama molto la teneva da parte per un giorno speciale e col giorno speciale è arrivato Sibel guardando Sibel negli occhi le dice ancora 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 le parole sono importanti le parole sono preziose le parole sono tutto le parole sono uniche le parole ci riempiono le parole ci amano e noi amiamo le parole con le parole costruiamo mondi meravigliosi con le parole viaggiamo con le parole esploriamo con le parole diventiamo grandi e con le parole ci divertiamo tantissimo e quindi con tante parole e con tutte le nostre parole e portatene anche voi ditemi delle parole nuove se le avete scrivete delle parole bellissime e poi le leggiamo tutti insieme e ci ritroviamo domani alle 18 ciao noi restiamo a casa a leggere ciao